Alessandro Obbino, con Exagogica avete frequenti rapporti con il mondo della scuola. Che tipo di attività è rispetto a quella che maria un'attività lavorativa tradizionale rispetto al vostro business? Noi non abbiamo rapporti commerciali, abbiamo rapporti legati al concetto di responsabilità sociale dell'azienda sul territorio. Quindi già dallo scorso anno abbiamo una collaborazione con l'Istituto Mattioli, con il Polo Liceale Pantini Pudente. Siamo al Mattioli quindi il lapsus spero sia perdonato. Quindi con il Polo Liceale abbiamo iniziato un'attività per fornire servizi di orientamento e di assessment ai ragazzi diplomandi che devono poi affrontare il mondo del lavoro. Per noi è importante riportare qualcosa alla scuola perché tutti arriviamo dal mondo della scuola. Ed è anche importante in qualche maniera trarre delle conoscenze in più perché utilizziamo la scuola come laboratorio per testare degli strumenti, soprattutto nel settore degli assessment, cosa che c'è molto utile poi nello sviluppo degli strumenti stessi. Oggi nel tuo intervento hai parlato molto di soft skills, quindi competenze che si apprendono sui banchi di scuola attraverso tante attività e poi tornano utili per chi va all'università, per chi entra nel mondo del lavoro, insomma servono un po' per tutta la vita. Sì, le competenze di base o fondamentali, io preferisco chiamarle così, sono assolutamente importantissime, sono le più richieste, le più importanti nello sviluppo non solo del lavoro ma anche proprio della vita a 360 gradi della persona. Il problema è che la scuola non è attrezzata al 100% per fornire queste competenze, non ha dei piani di sviluppo, delle competenze stesse e quindi di fatto i ragazzi che escono dal percorso scolastico spesso hanno competenze hard, molto sviluppate, quindi competenze magari scientifico-tecnologiche, però non hanno competenze di risoluzione dei problemi oppure di comunicazione in senso tecnico, non hanno magari neanche la giusta motivazione nell'affrontare le sfide che la vita pone. Per questo è molto importante che la scuola sia più ricettiva verso programmi di esperienze e di sviluppo delle competenze trasversali. In giornate come queste, in cui hai modo di confrontarti poi direttamente con gli studenti, attraverso il dialogo con i docenti, che cosa si trae per andare avanti e sviluppare sempre nuovi progetti? È un allenamento al pensiero laterale, cioè uscire fuori dalle prospettive tipiche dell'imprenditore, che deve sempre ragionare per catene del valore, e guardare alcuni fenomeni anche da altre prospettive, prospettive più sistemiche. Mi spiego meglio, noi nell'impresa siamo abituati sempre a dare un valore economico a tutto ciò che facciamo e magari a pensare meno alle ricadute sul lungo termine. Il mondo della scuola, essendo comunque un mondo legato ad un compito istituzionale di lungo periodo, ti porta a pensare più alle ricadute che hanno determinati interventi, come anche di tipo educativo, sul futuro delle persone. E questo è importante per qualsiasi imprenditore, perché poi di fatto io con le politiche a breve termine nella mia azienda posso decidere come andrà l'azienda nei prossimi mesi, ma cosa succederà fra 10 o 20 anni, chiaramente lo posso fare solo avendo un'intellezione, avendo una capacità di comprendere delle dinamiche più generali. E questi incontri ci aiutano in questo senso.